Ricordare l'attività ceramica del maestro Giancappetti, recentemente scomparso in maniera innovativa sul campo, per così dire. Sarà inaugurato giovedì prossimo alle 10.30 nel Museo della Ceramica di Villa Guariglia, a Raito di Vieti sul Mare, il laboratorio dedicato al grande ceramista salernitano. Gli spazi dell'ex Casa del Custode sono stati trasformati e saranno a disposizione di artisti, scuole ed anche aziende per la produzione ceramica. Nell'occasione del taglio del nastro sarà presentato anche un video sul Museo di Villa Guariglia di un riallestimento dello stesso per il settantennale di Salerno Capitale, visto che la struttura all'epoca ospitò la residenza di Vittorio Emanuele III di Savoia. L'obiettivo è quello di rivalutare il patrimonio della provincia di Salerno fondamentalmente, in quanto l'amministrazione trasformerà l'ex Casa del Custode di Villa Guariglia, quindi l'ultimo immobile che era possibile destinare ad attività culturali, al laboratorio di ceramica dedicato ovviamente al grande maestro scomparso il mese scorso. Maestro che è stato vicinissimo alle attività di questa direzione museale di tutta la provincia, tant'è che nel Salone del Consiglio possiamo trovare un solo astricato appunto. E poi perché vogliamo ridare alla collettività un centro di cultura, quindi un laboratorio di ceramica arraito, quindi a vietri sul mare, terra appunto della tradizione secolare dell'attività della ceramica. Si tratta di museo laboratorio? Assolutamente sì, in quanto è stato acquistato il laboratorio di un artista ceramista d'Arienzo e verrà questo laboratorio immediatamente utilizzato da importanti ceramisti che presenteremo oggi appunto questo progetto e faremo insieme alle scuole, ma poi si dà la possibilità a tutti, quindi artisti, scuole, imprenditori che volessero organizzare delle attività culturali all'interno del nostro laboratorio. Quindi questo laboratorio è a disposizione di tutta la collettività.